Entrano ora in campo le squadre, partita che a livello di classifica non ha più stimoli perché entrambe le squadre ormai hanno raggiunto i propri obiettivi il Verona ovvero non lo ha raggiunto, dovrà abbandonare il massimo campionato mentre la Sampa come dicevamo prima al suo primo anno in massima serie è riuscita a conquistare la permanenza in Serie A E' veterana dell'Ellas, attenzione a Rognoni che attacca alla profondità prova ad entrare in aria, Rognoni la palla sul sinistro, sul destro, prova a calciare vola Tampieri e dice di no con Fallico che la rimette in gioco per Tampieri Tampieri sbaglia, Tampieri regala il gol a Rognoni che non può sbagliare, a porta sguarnita, porta in avanti l'Ellas Sabdoria 0, Verona 1, al 22esimo il gol di Rognoni su Arachiri di Tampieri, ma che pasticcio da parte del portiere della Sabdoria raccoglie, ringrazia e deposita in rete rivediamo qui, Tampieri sbaglia completamente il controllo Rognoni in agguato, ruba il pallone a Tampieri e la deposita in rete in maniera facilissima, un gioco da ragazzo Ré va a far correre Seghir che vede dentro Annalou Martinez Annalou Martinez controlla benissimo con il sinistro e arriva il pareggio della Sabdoria Sabdoria 1, Verona 1, il quarto gol in questo campionato di Annalou Martinez controlla sinistro e buca Holland qui Cecilia Ré in verticale, innesca Seghir che guarda in mezzo, scarica benissimo per Annalou Martinez che si porta la palla sul mancino conclude con il sinistro non può nulla Quazzico che prova a deviare ma la porta aveva già varcato la linea Sabdoria 1, Verona 1 entra Melania Martinovic il livello tattico non cambierà niente una punta per un'altra punta Giordano ottima la palla per Cionce che va alla conclusione e arriva un gol meraviglioso da parte di Cionce Sabdoria 2, Verona 1 la firma, è che firma di Cionce controllo e tiro e palla che finisce sotto il 7 una traiettoria meravigliosa si gira, guarda la porta e trova praticamente il 7 Holland cerca di prendere la sfera ma si accorge di essere in ritardo ormai è già trascorso un minuto e mezzo dei tre concessi va alla battuta della punizione Spinelli che ha preso la fascia di Capitano dopo che Tarenzi è uscita attenzione al culpo di testa verso Giordano la palla arriva a Martinovic Martinovic con il destro e la chiude qui la Sabdoria con Martinovic Sabdoria 3, Verona 1 e arriva anche la rete di Martinovic che è davanti a Holland scarica di potenza il destro e chiude la partita il gol del 3 a 1 con quest'azione insistita da Giordano sporca il rinvio Meneghini regalando la palla a Martinovic attacco di Sardu per Ledri non c'è più tempo dice che finisce qui la partita la Sampdoria vince per 3 a 1 contro l'Ella Saverona la Sampdoria